Domanda, perché questo cane alla fine ragiona come ragionerebbe un uomo? Perché il mondo animale evolve attraverso la mente istintiva, ma quando la forma animale, come il cane, si avvicina alla condizione umana, inizia a sostituire la mente istintiva con la mente intellettiva, quale è appunto quella attraverso cui evolve l'uomo. Domanda, perché questo cane alla fine ragiona come ragionerebbe un uomo? Perché il mondo animale evolve attraverso la mente istintiva, ma quando la forma animale, come il cane, si avvicina alla condizione umana, inizia a sostituire la mente istintiva con la mente intellettiva, quale è appunto quella attraverso cui evolve l'uomo.